Caro Di Pietro, ci sono i responsabili della vecchia democrazia cristiana, altro che valori, altro che valori, e condannano cittadiste, condannano Craxi, condannano Craxi, intanto che era sul giornale di oggi, si scopre che Craxi, il tesoro di Craxi non esiste, sentenza. Secondo i giudici tributari non c'è prova dell'immenso patrimonio attribuito, allora avete rotto il cazzo, avete rotto i coglioni, mandando solo Craxi in esilio e dovendolo arrestare per 150 anni e gli altri sono tutti lì, tutti, vergogna, altro che valori, valori del buco del culo, questa è la storia.